L'Abruzzo è l'unica regione in cui l'autorizzazione sismica dura soltanto un anno. A stabilire la legge regionale post-sisma numero 28 del 2011 sulle norme per la riduzione del rischio sismico in modalità di vigilanza e il relativo regolamento attuativo. Concepita in questo modo, la norma in una regione colpita da diversi terremoti negli ultimi dieci anni sta mettendo in crisi il sistema della ricostruzione e va modificata rapidamente. A chiedere un intervento della regione è l'ordine degli ingegneri dell'Aquila che ha scritto più volte al presidente della regione Marco Marsilio al quale chiede di modificare la legge e rimuovere il limite temporale imposto sull'inizio dei lavori strutturali che deve avvenire entro un anno da rilascio dell'autorizzazione sismica termini dopo il quale l'autorizzazione decade. Significa che se noi non iniziamo i lavori dopo che abbiamo ottenuto l'autorizzazione sismica entro un anno e la cosa può succedere, pensiamo per esempio alle opere pubbliche le opere pubbliche non le ho mai viste dal momento in cui viene approvata una progettazione all'inizio dei lavori trascorrere solo un anno, mi piacerebbe vivere in un paese così ma purtroppo ancora non riusciamo ad evolverci. Ma anche nelle opere da sisma è difficile che possa succedere ma anche nelle opere private il cittadino può avere delle esigenze diverse per cui ritarda all'inizio dei lavori. Cosa succede a questo punto? Va ripresentato il progetto, va ripagato l'onere anche se ridotto per la presentazione dell'istanza e se intanto è cambiata la norma dobbiamo rifare il progetto con la nuova norma sismica che è subentrata. La domanda che continuo a porre, chi paga le spese di progettazione? Ma non è questo il vero problema perché siamo abituati a sopportare anche se ci stiamo scocciando. Il vero problema è chi paga le nuove opere in applicazione della nuova norma sismica soprattutto quando ci sta un contributo emesso e magari manca il titolo abilitativo per poter iniziare il permesso di costruire e poter iniziare i lavori. Che facciamo? Riapriamo tutta la procedura e ci vengono concessi più risorse a carico dei contribuenti. Perché? Perché qualcuno ha deciso che l'autorizzazione sismica dovrà solo un anno. Non può essere. Questa norma va cambiata e va cambiata anche in maniera retroattiva. Non da oggi, tutte quelle in essere dovrebbero seguire la stessa sorte. Nel senso che se è vero come è vero che l'autorizzazione sismica non deve avere una validità non può essere da oggi a domani, deve essere sempre. Intanto martedì prossimo, proprio sulla questione, il presidente degli ingegneri Peluigi Di Amicis verrà ascoltato in seconda commissione territorio.